Il via libera all'autonomia differenziata è stato accolto dalla maggioranza di governo come una conquista storica. Dura invece la presa di posizione delle opposizioni. Non è un'Italia più giusta, né un'Italia più forte. È un paese a rischio, ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Il sindaco di Napoli, Ghetano Manfredi, ha parlato di riforma antistorica. Questa frammentazione delle competenze indebolisce il ruolo dell'Italia e anche l'efficacia delle politiche che vengono messe in campo. Spero che ci sia un ripensamento e spero che alla fine prevalte un buon senso perché noi abbiamo bisogno di un paese unito che soprattutto guardi all'interesse nazionale in maniera unità. È molto importante che le opposizioni siano unite e che soprattutto costruiscono una base comune al pianista programmatico. È fondamentale che ci sia anche nelle differenze, come è naturale che sia anche nelle forze della maggioranza odierna, ci sono delle differenze, però che ci siano dei punti programmatici comuni, che siano degli elementi unitari e che in cui poi i cittadini si possano riconoscere nel momento in cui si presenta una nuova offerta elettorale.